Iniziò proprio negli anni Ottanta con il progetto Cernobil. Dovevamo cercare di finanziare questo progetto perché si trattava di ospitare dei bambini nelle case da noi, insomma in famiglia, per una vacanza salute. Sono venuta a sapere che le biblioteche d'Italia, perlomeno negli anni Ottanta, raccoglievano i libri vecchi a fine anno per inserire quelli nuovi e quelli vecchi li portavano al macero. Gli feci fare una delibera dall'assessore in quegli anni dove passava questi libri alla proloco di Castelgofredo. Le famiglie con generosità ci davano pagando persino le spese, la luce, quello che c'era da pagare. Abbiamo iniziato una cosa secondo me straordinaria. La bancanella del libro oggi per me è diventata una boutique del libro perché abbiamo trovato questo spazio meraviglioso. Dobbiamo pagare un affitto, pagare le utenze e allora dobbiamo darci da fare. In questo periodo difficile, difficile, dobbiamo aiutare la proloco perché è stata la proloco a fare questo passo importante e i proventi della bancarella andranno alla proloco proprio per pagare queste spese. Grazie. Grazie.